Buongiorno a tutti, sono Mirko e mi trovo quattro minuti, ci sono qua ragazzi il mio vlog Oggi ragazzi sono il mio vlog E ragazzi Questa sera Questa sera è un po' strano, non è rotto Questa sera ragazzi Sto facendo un po' il suo vlog di sera Intanto Dopo ne andrò a mettere il letto perché ragazzi sono Aspetta una volta che avete giocato Sono le 11 E' mezzanotte ragazzi E' mezzanotte E' mezzanotte Quindi adesso sto facendo un suo vlog per dirvi se vi piacciono I giochi di Che stai facendo ragazzi Dite se lo volete Ragazzi che Vi ho portato ieri, ho portato anche oggi O anche ieri Ragazzi Domani purtroppo E' mezzanotte E' andare a scuola E se ragazzi Perché vado a scuola Vi faccio un piccolo vlog Ma piccolissimo Io Provo a farlo Se non sono addormentata Se non vedete che esce ragazzi Perché Sono troppo addormentata Già E' difficile alzarmi per me Poi pensate Poi pensate a A A Ragazzi Mi sono Mi sono un po' Mi dipende da letto Il pigiama Perché il pigiama Ci vuole sempre Ragazzi Ci vuole sempre Bene ragazzi Per questo vlog Può anche bastare Vabbè butto anche un po' nel letto Ragazzi che sono anche un po' stanco Perché sono stanco ragazzi Perché oggi Abbiamo fatto un po' di roba E poi ho aiutato anche il mio padre Quindi Perfetto ragazzi Vedete anche per questo vlog Per tutto ragazzi Piccolino Ditemi se volete Domani volete Il vlog ragazzi Di mattino Io provo a farlo ragazzi Poi viene a mezzo A non chiedermelo Ok Quindi ragazzi Per questo episodio Per questo episodio Perfetto Allora Vedete il mio cestino intanto Stupendo Probabilissimo Vabbè Quindi grazie per questo vlog Piccolissimo È tutto Lo sto facendo ragazzi A mezzanotte qualcosa Quindi Cioè Non posso rilare Io sto rilando come Alla grande Quindi Vada ragazzi